Alessandro al traversone in mezzo, attenzione, con Di Maria, ha segnato il Fideo, ha segnato la Juventus, 1-0. Attenzione, può calciare Di Maria, Di Maria dentro, cercare Flaovic, Dusan, Flaovic, Juventus 3, Sassuolo 0. Vlaovic, Vlaovic, la Juventus è in vantaggio, è un capolavoro, quello di Dusan Vlaovic. Vlaovic, ancora Dusan, ancora uno fresco sotto il cielo stellato dell'Allianz Stadium di Torino. Miretti pronto a cross, Miretti dentro il pallone a cercare Milic, 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 Milic! Eccolo qui, il primo gol di Arkadius Milic con la maglia della Juventus, 2-0, Arkadius Milic! E la Juventus ha segnato il numero 14, Alec! Quadrado punta la porta, Quadrado volando dal traversone, traversone teso in mezzo, all'altra parte, Kostic al volo, e la dediazione di Milic, la Juventus è in vantaggio! Kostic pronto al traversone, in mezzo di testa, McKennie! Il gol della Juventus, Western McKennie riapre la partita! Kostic al traversone in mezzo, attenzione, come in testa, la rete! Ha segnato la Juventus, ha segnato il 51esimo! Gleison Bremer riapre la partita! Parte il tiro di Bonucci, la parata di Sepe, poi Bonucci! Bonucci! Il pareggio della Juventus! Leo, Spagna a rigore, ma non Spagna la ribattuta! La Juventus ha segnato il numero 19, Leonardo! Il traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, la palla in rete! Milic, la Juventus è in vantaggio! Vlaovic ancora la porta a su, Vlaovic, Vlaovic, Vlaovic sulla corsa per Kostic! Kostic, Kostic, Kostic! La Juventus è in vantaggio! Filip Kostic si presenta così! Pizzera Bonucci, il velo per Milic! Arcadio Smilic! Gol favoloso sotto la traversa! Rabioli vicino per Di Maria? Di Maria si deve inventare qualcosa dentro per Rabiò, attenzione! Rabiò! La Juventus è in vantaggio! Palla d'oro! E anche Di Maria, sinistro perfetto di Adria e Rabiò! La Juventus è in vantaggio! Di Maria con il sinistro, traversone in mezzo, colpo di testa e la palla in rete! Ha segnato Rabiot, 3-1 per la Juventus! Eccolo qua, il traversone che arriva in mezzo, colpo di testa e la palla in rete! Ha segnato la Juventus, Flaovic, 1-0 per la squadra di Acconera! Ancora il serbo, traversone in mezzo a cercare, Kena! Dopo sei mesi, torna il gol! Moise Ken attacca il primo palo, in maniera perfetta! Il suo traversone in mezzo, di testa! Il raddoppio della Juventus, Weston McKennie! Quadrato il suo traversone, diventa una sorta di tiro in porta! Attenzione, forse la palla è entrata sul colpo di testa da parte di Adria e Rabiot! 3-0 per la Juventus! Locatelli, dentro il pallone per Danilo, va la Juventus! Danilo, Danilo dentro, cercare Rabiot! 4-0 per la Juventus! La doppietta di Adria e Rabiot! A sinistra, Henning Junior attraversone in mezzo! Attenzione, gol di Milik, bellissimo! Grande assist da parte di Eling Junior, girata di Milik, 4-2! Traversone in mezzo, deviazione! Attenzione, va la Juventus! Batti e ribatti! Poi il tiro e gol di McKennie! 4-3! Finta e controfinta, Eling Junior dentro per Fagioli, 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 Fagioli a giro! Niccolò Fagioli! La Juventus è in vantaggio! Il primo gol in Serie A! Il primo gol con la Juventus di Niccolò Fagioli! Locatelli, palla morbida verso Quadrado, attenzione di testa! E la rete ha segnato Borrucci! 1-1! Gol di Leonardo Borrucci! Kostic, dentro il pallone, deviazione! La Juventus è in vantaggio! 52esimo minuto! Adria e Rabiù! Costi c'è, Costi c'è ancora! Dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioli! 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 Il raddoppio della Juventus! Rabiù lì vicino per Ken! Ken, punta la porta! Ken, Ken! Ken! La Juventus è in vantaggio! Moise e Ken! Eccolo qui! Il timbro di Moise! Rabiù gli la strappa via! Lungo il pallone a cercare Ken! Va la Juventus! Ken, Ken! Ken il pallonetto di Moise! La Juventus è in vantaggio! Moise e Ken! Costi c'è, Costi c'è la parata e poi Ken! Il raddoppio della Juventus! Il tapì vincente di Moise e Ken! Lì vicino per Chiesa, grande idea questa per il sette! Chiesa in mezzo! Al gol di Arkadius Milik! Ottantanovesimo minuto! Juventus 3! Lazio 0! Gioco! Partita! Incontro! Arek Milik! 3-0 per la Juve! Milik! La Juventus è in vantaggio! All'alcolino! Arek Milik! Al novantesimo! Parete smormito da cercare Chiesa! Attenzione ma la Juventus Chiesa! Chiesa! E la rete ha segnato la Juve con Danilo! 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 Ottantasegno al minuto! Il capitano sottoporta! Di Maria ancora! Di Maria con l'esterno! Dai e vai! Sempre il fideo! Di Maria prova a transitare! Non ce la fa! Di Maria! Di Maria! Anche il di Maria! Riapre la partita! Pall'argentino! Ken era libero! Che peccato! Il tocco per McKennie! McKennie ha il traverso di mezzo verso Kenne! La Juventus è in vantaggio! 8 minuti sul cronometro! Azione meravigliosa! Moise Kenne! Ancora Chiesa! 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 Può calciare! Chiesa! Dopo un anno! Torna il gol! E che gol! Federico Chiesa! Un affresco! In questa notte di gennaio! Per la Juventus! Ricorsa a Di Maria a parte! Il tiro di Di Maria! La palla in rete! Il pareggio della Juventus! Il cuore ai tifosi della Juventus! Del fideo campione del mondo! Di Maria con il tacco per Fagioli! Fagioli ha cross in mezzo! Attenzione! Il 2-1 per la Juventus! È meraviglioso! 34esimo Arek Milik! Al volo! Di prima intenzione! Di Maria la finta per Danilo! 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 3-3! Grandissimo schema della Juventus! E la Juventus ha segnato il numero 6! Motocarla fuori! La rimette dentro a cercare... Bremer! La Juventus ha in vantaggio! Clayson Bremer! Blaovic! Blaovic! La Juventus ha in vantaggio! Rigore perfetto! Un bacino al palo! Battuto Cioa! Mancinata dentro a cercare Kostic! Vlaovic! Col cui testa Vlaovic! Non calce e arriva Kostic! Il raddoppio della Juventus! Filip Kostic! La zampata giusta! Andare a prendere il tempo! Aghyshermo Cioa! Palla sbagliata! Fagioli! Break della Juventus! Fagioli dentro a cercare Vlaovic! 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 Dusan Vlaovic! E' una festa tutta serba! Vuole il traversone in mezzo! Palla deviata di Maria! Può calciare di Maria! Giro in mezzo! E la parola di Terracciano! Forse è entrato il pallone? No! E' il gol! È il gol della Juventus! Al 34esimo! Adrien Rabiot! Per il vantaggio della squadra bianconera! Taglio per Chiesa colpa di destra per Vlaovic! La Juventus è in vantaggio! Tredicesimo minuto sul cronometro! Chiesa assista! Vlaovic! Gol! 1-0 per noi! La Juventus ha segnato il numero 9! Costici in mezzo verso Moise Ken che ci arriva! La Juventus è in vantaggio! Moise Ken sinistro all'angolino al 32esimo minuto! La Juventus è avanti con Moise Ken! Danilo verso Di Maria! Va la Juventus! Di Maria! Di Maria! Anche Di Maria! Illumina! Questa notte! Al picco di La Spezia! Gol! Favoloso! Un gol da campione del mondo! 2-0 per la Juventus! Fagioli butta la porta! Fagioli ancora! Raso terra! Di Maria! Di Maria! E' un gol fantastico! Quello del Fideo! Parte il tiro di Di Maria! Portiere dalla parte! Palla dall'altra! Altro cuore! Il secondo di questa notte meravigliosa! Alexandro per Rabiot! Rabiot dentro! Alexandro! La parata! Vlaovic può calciare! Vlaovic! Vlaovic! E la palla prende uno strano rimbalzo! Di Maria di testa! La parata poi! Vlaovic! E gol! E la tripletta di Angel Di Maria! 0 a 3! Gol di testa! In mezzo il pallone morbido! A cercare Rabiot! Arriva Quadrado! Destro! E la palla in rete! Il pareggio della Juventus! Con l'uomo derby! Per eccellenza! Qua Quadrado! Destro! Incrociato! 1 a 1 Juve! Di Maria! Attraversone in mezzo! Attenzione! Colpo di testa! Palo! Parata! Forse la palla è entrata! Oppure no! E gol! E gol! Il pareggio della Juventus! 46esimo minuto! Con il traversone in mezzo! Colpo di testa! E la rete! Il 3-2! Ha segnato la Juventus con Bremer! Bremer! Il 3-2! Kostic! Palla morbida in mezzo! Palla in rete! Rabiot! 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 Ottantesimo minuto! Juventus 4! Torino 2! Ha segnato il numero 25! Che va al traversone! Verso Di Maria! Di Maria! Fa il cuore! Sotto la curva! Porta avanti la Juve! Al 53esimo minuto! Bianco neri in aria! Il pallone verso Bremer! Gleison Bremer! All'undicesimo minuto! Stappa la partita! Siamo avanti noi! 1-0! Miretti può mettere in mezzo un altro pallone! Ci riesce! Pallone per! Rabiot! Rabiot! Fa 2-0! Ancora di testa! Va da Fagioli! Poi ancora Rabiot! 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 Ancora! L'ha fatto ancora! Torna avanti la Juve! Il traversone morbido Verso Vlaovic! Traversa! Sule! Sule! La prima volta in Serie A con la maglia della Juve! Chiude il match! Cala il poker! Parte Vlaovic! Vlaovic! Intuisce Flecken! Ma non basta! Rabiot! Per Chiesa! 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 Federico Chiesa! Prende la traversa! E poi adesso va a fare gol! Dando un bacino al palo! Il controllo di Rabiot! Dall'altra parte c'è Kostic! Eccolo servito! Kostic entra in area! Prova a caricare il sinistro! Filip Kostic! Terzo gol in campionato! Terzo gol in stagione! E un gol favoloso! Danilo di prima Miretti! Che bel pallone per Locatelli! Vada Ken! 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 Moise Ken! La sblocca ancora lui! Come all'andata! 1-0 Juve! Pallone in mezzo! Diventa buono per Quadrado! 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 L'uomo di Juve-Inter! E ancora lui! Pallone al centro dell'area! Verso Bremer! La palla è lì! Rabiot! Rabiot! La pareggiata! Adrian Rabiot! 1-1! Poi il traversone è già battuto per Vlaovic! E poi Gatti! Gatti! Federico Gatti! Sblocca! Una partita difficilissima! Per la Juventus! Va Chiesa al centro verso Bremer! Il colpo di testa e il pallone rimane lì! Poi Rabiot! Adrian Rabiot! La sblocca! La Juve al nono minuto! Vada Chiesa cerca lo scambio! Il pallone diventa buono per Milik! Arkadius Milik! Al sessantesimo! Fa 1-1! Va Paredes! Leandro Paredes porta avanti la Juve con un gioiello su calcio di punizione! Posti c'è il pallone al limite per Vlaovic! Dusan Vlaovic torna a segnare, torna a esultare e torna avanti la Juve al quarantesimo minuto! Orobica qui non c'è fallo su Zappacosta! E allora Eling Junior può sprintare! Va da Rabiot! Dentro l'area! Rabiot va in mezzo! Eling! Sam Eling Junior! Porta avanti la Juve al cinquantaseiesimo minuto! La prima gioia! Con la maglia bianconera! Il primo gol! Con la prima squadra! Ancora Chiesa! Allarga per Vlaovic! Dusan! Vlaovic! 2-0! Game, set e match per la Juve! Finisce qui! Ma Chiesa al centro dell'area, il pallone, il colpo di testa, Pogba la rimette in mezzo! Gatti! Ancora Gatti! Ancora l'Allianz Stadium! La riprende la Juve! Direttamente Vasquez, ancora Chiesa al limite, poi Fagioli! Fagioli! Una meraviglia di Niccolò Fagioli, il più classico dei gol dell'ex! Vaparedes, il pallone in mezzo! Ancora lì! La butta dentro! Gleison Bremer! Con forza! Quinto gol stagionale! Per il difensore brasiliano! Rabiot per Vlaovic! Scappa Vlaovic! 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 Dusan Vlaovic! Un ingresso in campo da sogno al 65esimo! Riesce a crossare il pallone al centro, non ci arriva Bremer, la mette giù Chiesa che calcia Federico Chiesa all'ottantacinquesimo! Gran movimento di Locatelli per Chiesa, Chiesa in area, Chiesa! La piazza Federico Chiesa, secondo gol in campionato! E la Juve è avanti alla Dacia Arena, 1-0 al 68esimo! Grazie! 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 Grazie a tutti.